L'edizione numero 67 della Coppa Nissena, che si svolgerà dal 7 al 10 ottobre prossimi, si arricchisce di una seconda validità tricolore e sarà l'ottavo round di campionato italiano velocità salita autostoriche, oltre ad essere gara conclusiva del campionato italiano velocità montagna, con validità di trofeo italiano velocità montagna sud e campionato siciliano salita. La gara, organizzata dall'Automobile Club di Caltanissetta, si freggia della nuova validità di massima serie tricolore, proprio nell'edizione che celebra il centenario della competizione siciliana, che ha scritto importanti pagine di automobilismo sportivo. Soddisfazione da parte del presidente dell'Automobile Club di Caltanissetta, Carlo Alessi, che ha affermato «poter accogliere i protagonisti del campionato italiano velocità salita autostorica alla Coppa Nissena del centenario è un'ulteriore motivazione ed anche una gratificazione. L'evento si arricchisce di un'ulteriore importante validità tricolore, che salta quelle auto che hanno scritto la storia di cui la nostra gara va a fiera». La Coppa Nissena, dunque, anche per il campionato italiano velocità salita autostoriche, sarà una seconda tappa della miniserie siciliana del doppio appuntamento che si apre ad Erice una settimana prima, anche per il campionato italiano di velocità montagna. Ottavo round dei nove in programma per il campionato italiano velocità salita autostoriche, pertanto entrambe le gare isolane saranno determinanti per l'assegnazione dei tipi di tricolori dei massimi campionati della montagna.